Bentornati su cui ne hanno aperto questo blog, io sono il Gons e oggi sono qua a fare la recensione di Corona Zombies. Il film di Charles Bend, un diretto, girato in questi giorni di quarantena causati dal coronavirus. E il film, insomma, a parte un piccola parentesi, a parte che qualcuno si è sentito offeso perché è il film, su questo argomento vi dico in poche parole come la vedo. Secondo me offendersi perché il film di Sacra ironizza, insomma, usa un tema attuale, comunque un tema pesante, che vede coinvolte tantissime persone nel mondo e tantissimi morti, secondo me non è assolutamente un insulto, anche perché il film, dato che l'ho visto, vi posso garantire che non ironizza sulla gente morta. Semplicemente è un film dissacrante che sottolinea in parte la stupidità di alcuni atteggiamenti umani, in parte la malgestione di Donald Trump nei confronti dell'epidemia. Di per sé non ci vedo nulla di offensivo. Probabilmente quando un tema tocca le persone che si sentono offese, le tocca da vicino, allora queste si sentono turbate. Ma ogni giorno vediamo film e videogiochi ispirati a guerre, bombe, ammazzamenti, nessuno si è mai indignato e battute ne vengono sempre fatte. Battute su coronavirus, speculazioni, sulle varie reti televisive nazionali, ne vedo a bizzeffe. Direi che questo non è proprio il caso di mettersi a fare gli inquisitori per un film veramente che dopo averlo visto posso garantirvi che non ha nulla di offensivo nei confronti di chi purtroppo è stato colpito dal coronavirus direttamente. Torniamo al film, dopo che abbiamo visto il trailer dove si vedevano immagini prese da virus di Bruno Mattei, film di zombie degli anni 80, fantastico tra l'altro che vi consiglio. Poi ci siamo tutti chiesti, ma poi nel film ci saranno le immagini di virus di Bruno Mattei. E vi spoilerò questa cosa, sì ci saranno le immagini di virus di Bruno Mattei, sarà un film che unisce una sorta di mix, di mashup, di un girato fatto appunto in quarantena da Charles Band. Charles Band che vi ricordo è un produttore piuttosto noto che ha fondato la Full Moon e ha prodotto film come Castle Freak o... Castle Freak o... Non me li ricordo. Insomma ha prodotto film di Stuart Gordon eccetera. La Full Moon è piuttosto famosa insomma. Insomma ha girato un po' di scene con un'unica protagonista e un'altra protagonista che si sente solo per telefono. Questa ragazza, questa attrice molto prosperosa, caruccia, interpreta la classica bionda un po' stupida che fa fatica a capire che sta succedendo qualcosa, che c'è un'epidemia. Diciamo che uno dei personaggi del film è la tv, nel senso che lei guarda la tv e riceve delle informazioni dal telegiornale eccetera e quindi pian piano capisce che è scoppiata un'epidemia di coronavirus e questa epidemia quanto pare trasforma le persone in zombie, in corona zombie. In realtà poi il film prende tantissime scene di virus di Bruno Mattei e le usa per raccontare una storia dove appunto la Corona Squad dovrà risolvere un po' il problema del coronavirus e la Corona Squad è il gruppo di soldati che vediamo nel film di Mattei. Praticamente è un, soprattutto la parte iniziale, è un grande lavoro di montaggio molto divertente e ben fatto. Il film in realtà di per sé è il film virus ridoppiato, tagliuzzato in varie parti per renderlo un po' più breve e viene ridoppiato con dei testi che devo dire, io l'ho visto in lingua inglese, il film è molto divertente perché è stato riscritto e ridoppiato in modo molto intelligente, simpatico e pieno di citazioni. Il film di Mattei comunque è una bomba perché è ricco di splatter, è figo, visivamente è figo, le musiche dei Goblin. Diciamo che di per sé non è un film che considero propriamente un'opera filmica, è più un esperimento, una specie di gioco, uno scherzo che Charles Bend ha voluto fare e secondo me è anche abbastanza riuscito. Molto più interessante nella prima parte dove appunto alterna di più le scene girate da lui con quelle del film e poi diventa un po' più monotono e vediamo però appunto il film di Mattei super splatter con un doppiaggio delirante e assurdo che in alcuni momenti fa veramente ridere. Il film dura un'ora quindi è anche una visione piuttosto leggera. Diciamo che vederlo dopo aver visto il film di Mattei è sicuramente molto più divertente perché conoscendo bene tutte le scene vedrete come lui col montaggio e con la riscrittura dei dialoghi si è reinventato una storia diversa da quella del film di Mattei. Questo è un po' tutto per quanto riguarda le recensioni di Corona Zombies, appunto più che una vera opera filmica è quasi un esperimento, un gioco fatto forse anche un po' per ammazzare la noia, forse anche perché in quarantena anche loro devono trovare qualcosa da fare. Con l'arrivo di Corona Zombies in Italia che mi è stato garantito da fonti attendibili verrà sottotitolato in italiano nei prossimi giorni, lo potete vedere sulla piattaforma streaming di Fullmoon, fullmoonfeatures.com. Mi è stato anche rivelato che Charles Band e insomma la Fullmoon vogliono iniziare a sottotitolare un po' di prodotti, un po' di film loro in italiano, quindi un'apertura al mercato italiano molto molto interessante perché la loro piattaforma ha delle cose veramente di nicchia che probabilmente neanche sarebbero mai arrivate. Quindi se volete iscrivervi con il codice CZ20 potete pagare l'abbonamento circa 2 o 3 dollari e in generale comunque l'abbonamento mensile costa 5 dollari, non di più 4,99 o qualcosa del genere, comunque veramente poco. Se sapete bene l'inglese vi consiglio di iscrivervi subito, comunque vi terrò aggiornati se usciranno altri titoli sottotitolati in italiano perché ho intenzione di seguire le loro uscite e possibilmente fare delle altre recensioni. Questo è un po' tutto per quanto riguarda il film Corona Zombies, primo film diciamo ispirato al coronavirus, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e ci vediamo al prossimo video.